ciao gente lo vedete un po' in travallamento questo video perché stiamo tornando da san giuliano milanese e siamo andati a risparmio casa io volevo vedere com'era infatti è abbastanza grande il marito è sconvolto come sempre perché lui in questi posti li odia si sente male lui si sente sempre male e niente adesso arriveremo tra un bel tre quarti d'ora a casa sono le 18 e 16 e oggi è il 15 di ottobre e vedo un bel po' di traffichino speriamo di arrivare abbastanza in tempo a casa e niente cosa vi racconto che era grande e bello mi piace come come posto perché c'è di tutto e ho preso un po' di detersivi un po' di cose per i cani e niente ho detto gente per il bagno e niente guardo la strada perché è un po' così e basta poi magari vi farò vedere qui in là che quello che abbiamo comprato da risparmio a casa ciao